Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. Le dichiarazioni rilasciate da Enrico Vella, esponente del megafono venerdì scorso nella trasmissione Agorà condotta da Franco Gallo, hanno suscitato parecchio scalpore in città. Vella ha detto di non aver fatto votare alle ultime amministrative il sindaco uscente Fasulo dell'argomento e dei malumori che si registrano nel PD Gelese. Ne abbiamo parlato con il segretario provinciale del partito Giuseppe Gallè, l'intervista del nostro direttore Giuseppe Donchia. Sentiamo. Avendo discorso nella trasmissione Agorà condotta dal collega Franco Gallo, l'esponente del megafono Enrico Vella ha sostenuto in maniera pubblica che in occasione proprio dell'amministrativa non ha fatto votare il sindaco uscente Fasulo. Lei ne era al corrente? No, il megafono era un alleato, io ritengo un alleato assolutamente fedele al sindaco Fasulo come l'intera coalizione. Io ritengo, sì, mi hanno raccontato qualcosa, io non sono riuscito a vedere la trasmissione ma penso che sia stato forse uno sfogo che non è compatibile con quanto è successo secondo me in campagna elettorale. E' stato forse un momento di rabbia dovuto ad un dibattito che forse aveva assunto una tensione particolare. Però è pur vero che quando l'esponente del megafono, dunque ci rivediamo a Crocetta, non fa votare il candidato del PD è tutto a dire. Guardi, io non credo a questa dichiarazione, guardi, non credo a questa dichiarazione. Ma l'ha detto lui, non lo diciamo noi. Penso che sia frutto, possibilmente, mi auguro che sia frutto, di un momento di tensione causata dal dibattito forse. Quindi voglio ancora credere che si tratti di un momento di tensione dovuto ad il dibattito perché la campagna elettorale si è svolta con una coalizione e l'intera coalizione aveva il dovere e penso che ha sostenuto Fasulo. Poi se ci sono stati dei momenti di tensione che sono scaturiti in azioni improprie, guardi, queste certamente non sono liete da ascoltare, ma ritengo e ne sono convinto anche perché, anche se non sono di Gela, ma sono sempre il segretario provinciale, ho seguito la campagna elettorale, io ricordo che proprio l'esponente del megafono al quale lei fa riferimento ha organizzato molte riunioni al sindaco Fasulo, questo lo ricordiamo tutti. Poi le dichiarazioni postume vanno prese con le pinze. Ma lei ci ha parlato con Enrico Vella? No. Ha intenzione di parlare e dunque di capire esattamente a chi ha fatto votare? Ma io non penso che oggi sia il caso di capire chi ha fatto votare o no. Io sono convinto che la coalizione, nelle sue diverse sensibilità, abbia sostenuto con lealtà Fasulo. Se poi ci sono state delle incomprensioni, ripeto, ormai è trascorso un anno e penso che vadano archiviate. Però è un PD, in tutta sincerità, dilaniato quello che c'è a Gela. Due segretari, due circoli. Guardi, c'è un segretario, non ci sono due segretari, lo sta dicendo lei. Qua si è svolto un congresso che ha eletto un segretario. L'unico segretario che è stato eletto secondo le norme statutarie si chiama Giuseppe Di Cristina. Questa è dei due segretari. Peraltro io ho sentito, mi hanno riferito dalle dichiarazioni rilasciate proprio a Canale 10 dal segretario del circolo che avrebbe indetto questo contro congresso che ha parlato proprio di una provocazione. Ha detto che non esiste, mi pare, posso anche sbagliare, posso anche aver interpretato male o è possibile che mi abbiano riferito male. Ma per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la segreteria provinciale, per quanto riguarda la segretaria regionale, le assicuro che il segretario di Gela è uno e si chiama Giuseppe Di Cristina, salvo decisioni diverse dagli organismi di garanzia che mi pare già si siano, almeno uno, si è pronunziato in maniera conforme al congresso che si è celebrato. I congressi si celebrano secondo le norme statutarie, poi si possono contestare eccetera eccetera ma le contestazioni poi alla fine rientrano e io penso che rientrino anche questa. Continuano gli appuntamenti degli agenti del commissariato di Gela con gli istituti scolastici. Il poliziotto diventa amico dei bambini, la visita di ieri ha aperto gli uffici del commissariato di pubblica sicurezza a oltre 80 bambini della scuola elementare Luigi Capuana nell'ambito del più ampio progetto elaborato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ormai da qualche anno in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comitato Italiano per l'UNICEF al fine di diffondere una cultura della legalità e della solidarietà sociale. L'iniziativa nasce per consentire più piccoli di conoscere in modo diretto le modalità operative legate ai servizi di polizia in particolare espletati nell'ambito del controllo del territorio. Sotto la guida del commissario capo Laura Romano, tre classi di quinta elementare hanno avuto l'opportunità di assistere alla gestione di un intervento della sala operativa, alla catalogazione e archiviazione di tutti i casi trattati nel corso del tempo nonché alla realizzazione di un fotosegnalamento di polizia scientifica. La visita si è conclusa a bordo dei natanti della Polizia di Stato che all'interno del porto di Gela costituiscono i mezzi operativi attraverso i quali la squadra nautica della Polizia effetto ai servizi di pattugliamento in mare aperto e lungo la costa, garanzia della salvaguardia dei bagnanti. Il tutto nell'ottica della realizzazione della sicurezza partecipata, aiutando sin da subito i bambini al rispetto delle regole. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze per richiedere l'assegno civico, gli uffici comunali di Gela hanno riscontrato in esattezze nella documentazione di alcuni soggetti. In particolare sono state consegnate dichiarazioni sostitutive uniche o ISEE scaduti. Il settore servizi sociali ribadisce che per poter concorrere al beneficio dell'assegno civico va depositato esclusivamente l'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità. Soltanto per i cittadini interessati l'assessore Licia Abela comunica che si potrà integrare l'ISEE valido in modo che si possa rimediare a quest'errore. La proroga è fissata fino al 31 maggio prossimo. Giornata della sicurezza in mare si è svolta questa mattina presso il club Vela di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. Si è svolta questa mattina anche a Gela la giornata nazionale della sicurezza in mare. L'evento è stato ospitato presso il Vela Club e organizzato dalla sezione locale della Lega Navale Italiana in collaborazione con la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Gela. Oggi si celebra la giornata della sicurezza in mare che la Lega Navale Italiana organizza ogni anno con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Gela. Questa giornata è di preparazione propedeutica alla fruizione del male da parte della cittadinanza per cui la Capitaneria di Porto dà tutta una serie di informazioni che servono ai gelesi per godere il mare in totale sicurezza. La giornata di oggi è finalizzata alla sicurezza in mare. Noi come Capitaneria di Porto insieme alla Lega Navale da qualche anno svolgiamo questa giornata in totale sintonia perché l'obiettivo nostro è informare la popolazione partendo anche dai ragazzi e quindi dai ragazzi più giovani, dai bambini anche delle scuole elementari come si deve approcciare il mare, il sistema mare che poi può essere la spiaggia, può essere la barca. Quindi questa giornata è finalizzata appunto a chiudere poi il ciclo di conferenze perché molti bambini sono già passati dalla Capitaneria quindi ci conoscono, conoscono qual è il nostro compito però questa giornata ci dà la possibilità di dare qualche nozione in più anche di natura pratica su come svolgere al meglio e affrontare al meglio la stagione bagnare. Il Club Vela è felice di ospitare questa giornata di sicurezza in mare organizzata dalla Lega Navale con la partecipazione della Guardia Costiera e con la partecipazione anche dell'Istituto Nautico di Gela. Ci fa molto piacere partecipare a questi eventi che ci danno la possibilità di incontrare giovani che vivono con passione la vita e vivono le passioni della vita. Protagonisti della giornata anche alcuni scolari di Gela, vediamo. Nel corso della manifestazione relativa alla giornata nazionale della sicurezza in mare sono stati consegnati agli alunni delle quinte classi del plesso Nelson Mandela diretto da Clizia Nobile gli attestati di partecipazione al progetto Conoscere il mare organizzato dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con il secondo circolo didattico Enrico Solito di Gela. Oggi si conclude il progetto Sicurezza in mare che è stato realizzato già per il secondo anno nella nostra scuola con l'aiuto e il grande coinvolgimento del Capitano Giuseppe Pace a cui diamo un forte abbraccio simbolico e un grande ringraziamento per questo lavoro così realizzato con i ragazzi un progetto multidisciplinare, un progetto sì rivolto alla sicurezza del mare ma parte da lontano, parte con un'ambia panoramica di quello che è un luogo di mare di quello che è geograficamente il mare di quello che può essere la capacità da parte dei giovani di sapere gestire la propria vita a mare e quanto rispetto deve avere il mare. È stato un progetto molto interessante sia per la professionalità profusa appunto dal Capitano Giuseppe Pace ma non è solo questo c'è stato un coinvolgimento generale da parte di tutti i ragazzi e degli insegnanti è stato un progetto come dicevo con più aspetti trattati infatti c'è stato un discorso geografico, storico pragmatico perché è stato anche di tipo laboratoriale ai ragazzi sono stati insegnati anche a fare i nodi è venuto il dottore migliore e poi abbiamo avuto il piacere di fare andare i ragazzi alla Capitaneria di Porto per fare capire come funziona tutta un'organizzazione rivolta alla sicurezza del mare Sono uno studente della scuola navale di Gela in sorta tre anni fa questa scuola ci porterà alla conduzione del mezzo navale e quindi ha un titolo di allievo ufficiale di coperta oggi abbiamo il piacere di partecipare a questa giornata sulla sicurezza in mare e offrettaci dalla Lega Navale Da Gela il polo industriale più sud dell'Europa Transfrigo Route Italia Assotir Associazione Italiana Imprese di Trasporto lancia l'ultima chiamata all'Italia e all'Europa contro la crisi dei mercati la concorrenza internazionale la Sicilia, sia HUB del Mediterraneo una vera piattaforma intermodale con strade, autostrade, ferrovie e porti, aeroporti, crocevie dei mercati dell'Europa che guardino ai paesi frontalieri e all'economia emergenti questi temi che verranno affrontati sabato prossimo 28 maggio alle 9 nei locali dell'hotel Villa Peretti in occasione del convegno nazionale la Sicilia, del Mediterraneo prevista la presenza tra gli altri del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta del sindaco di Gela Domenico Messinese del presidente regionale Assotir Salvatore Sciagure del sottosegretario ai trasporti la senatrice Simona Bicari saranno due le tavole rotonde moderate dalla giornalista Monica Adorno in cui si alterneranno addetti ai lavori e politici convegno dell'associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani venerdì 27 maggio alle 10 nella sala plenaria del castello di Falconara il tema che sarà affrontato è il servizio di ormeggio alla sfida europea saranno presenti tra gli altri il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta Vincenzo Melone comandante generale del corpo delle capitenerie di Porto Pietro Carosia comandante della guardia costiera di Gela il primo cittadino Domenico Messinese l'europarlamentare Salvo Pogliese e Cesare Guidi presidente di Angopi darà il benvenuto Vincenzo Casciana capogruppo ormeggiatori e barcaioli di Gela concluso ieri il progetto Liberi da Liberi di rivolto agli studenti delle scuole medie vediamo è terminato il progetto denominato Liberi da Liberi di con un incontro che si è svolto alla scuola Giovanni Verga diretta da Viviana Aldisio alla presenza del dirigente Rosalba Marchisciana capofila del progetto con gli istituti Lombardo Radice e Albani Roccella obiettivo del corso è stato informare e formare gli studenti sui fattori a rischio legati all'uso di alcol droghe fumo giochi d'azzardo e ogni altro tipo di dipendenza favorendo la scelta di stili di vita positivi seguendo l'esempio di un pari secondo il metodo educativo della peer education Preside scuole in rete per continuare a dialogare con i ragazzi affinché questo dialogo sia sempre continuo ma soprattutto produttivo di effetti a breve e lungo termine in questo caso parliamo di dipendenze ed è molto difficile parlarne soprattutto con la famiglia assolutamente sì motivo per cui la modalità con cui il progetto si è sviluppata sicuramente la modalità migliore formare i ragazzi renderli attori i protagonisti della loro formazione il metodo frappari è il metodo che meglio li coinvolge e li fa chiaramente li responsabilizza rispetto alle conoscenze e quindi alle competenze che acquisiscono a fine progetto mi sono rivolta ai ragazzi definendoli sentinelle di quelli che sono i valori della buona diciamo condotta ed educazione che noi ci auguriamo che loro portino avanti nella vita per sempre liberi dalle dipendenze non solo oggi ragazzi indipendenti e curati questo è il ruolo migliore che la scuola debba sicuramente svolgere per una sana crescita quali sono i principali fattori di rischio che possono indurre soggetti anche giovanissimi a essere dipendenti da qualunque cosa ma sono delle problematiche ovviamente multifattoriali quindi non c'è un solo fattore quindi i fattori sono tanti noi abbiamo nella società fattori protettivi e fattori invece predittivi di patologia quindi quali sono i fattori protettivi ad esempio avere una famiglia sana che funziona adesso avere una famiglia sana che funziona non sempre è dettata dall'apparenza ma poi nella sostanza di capire le relazioni intrafamiliari il quartiere in cui vive un ragazzino è un quartiere dove ci sono delle pratiche oppure no anche il fatto di frequentare non so la parrocchia frequentare altri gruppi sani quali gli scout sono fattori protettivi i fattori sono tantissimi liberi di liberi da da ogni forma di dipendenza e oggi le dinamiche relazionali che determinano dipendenza sono diverse quindi si va oltre la dipendenza da sostanze stupefacenti ci sono dinamiche molto più moderne che riguardano la dipendenza dalle tecnologie la dipendenza dal gioco d'azzardo sono questi i temi che i ragazzi hanno affrontato ed è stato bello avere messo insieme ragazzi di scuole differenti che appartengono a due quartieri differenti è stato un modo per capire le dinamiche sociali e anche antropologiche che riguardano la nostra città è un modo per rendere i ragazzi consapevoli di quei comportamenti che a volte vivono in modo superficiale ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale un corso per discutere di celiachia e ricevere preziose informazioni si è svolto come evento collaterale al concorso gastronomico gluten free c'eravamo anche noi vediamo soltanto nell'ultimo decennio si comincia a parlare e diffondere quello che è il concetto della celiachia prima questo disturbo non era conosciuto e i suoi effetti venivano confusi per effetti di altre patologie che cosa è cambiato? circa vent'anni fa la patologia già esistente se vuoi per motivi di scarsa tecnologia diagnostica non veniva riconosciuta facilmente oggi con le moderne tecnologie si riesce a fare diciamo quasi subito diagnosi di celiachia e quindi una pronta terapia che consiste nell'allontanare dalla dieta il glutine il glutine purtroppo oggi si trova ovunque è entrato a far parte in tanti cicli produttivi delle catene alimentari quindi non è facile per il soggetto celiaco trovare gli alimenti adatti che cosa vuol dire per un celiaco essere associati e quindi avere il sostegno di altri soggetti che vivono la stessa situazione l'associazione italiana di celiachia è di supporto al celiaco che appunto nella fase della diagnosi affronta questo problema l'associazione italiana di celiachia ha diversi progetti in tutto il territorio nazionale in particolare quello di formare e informare i locali quindi i ristoranti gelaterie hotel della ristorazione e quindi del poter fare la cucina senza glutine e informazioni di tipo scientifico ci sono infatti delle dietiste e professionisti che formano si organizzano dei convegni e cose e quant'altro e poi l'associazione italiana di celiachia è presente anche nelle scuole con il progetto in fuga dal glutine quindi per educare gli insegnanti di ragazzi ragazzini che possono avere appunto intolleranze al glutine e fornisce materiali utili come il prontuario o la guida dell'alimentazione fuori casa per aiutare il celiaco a gestire appunto la sua condizione una persona che scopre di essere celiaco a primo impatto ovviamente deve cambiare il suo stile di vita le sue abitudini il modo di mangiare come cucinare un po' tutto per cui ovviamente così a primo impatto è abbastanza traumatico IC fornisce materiale divulgativo non solo cartaceo ma online su app quindi nel momento in cui ti viene se sei un neodiagnosticato hai subito modo di poter avere qualcuno al fianco di fatti il mio impegno in IC vuole essere questo poter essere un punto di riferimento per quanti sono in questa condizione e si sentono spauriti perché all'inizio effettivamente crea ansia difficoltà poi se si è a contatto con un bimbo questa cosa diventa ancora più complicata un avviso pubblico rivolto ad enti pubblici associazioni comitati costituiti fondazioni istituzioni ecclesiastiche del territorio per predisporre il programma delle attività culturali ludico ricreative sportive da inserire nel cartellone delle manifestazioni del 2016 e quanto ha emanato l'amministrazione comunale di Gela su iniziativa dell'assessore Eugenio Catania a caccia di progetti relativi ad attività di animazione culturale spettacolare sportiva e musicale le proposte progettuali dovranno comprendere oltre alla prestazione artistica gli allestimenti e i servizi tecnici necessari il relativo coordinamento compreso l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente l'individuazione del sito e l'indicazione delle date di svolgimento delle attività il calendario definitivo sarà comunque stabilito dall'amministrazione comunale per evitare sovrapposizioni di date con altre manifestazioni per lo svolgimento e la buona riuscita degli eventi che l'amministrazione comunale intenderà sostenere verrà offerto il supporto tecnico logistico i soggetti interessati potranno presentare in stanza entro il prossimo 9 giugno pubblicato il primo concorso finestre balconi fioriti aperto a tutti coloro che nel centro abitato del comune di Gela abbiano la disponibilità di una finestra un balcone un terrazzo una vetrino particolari abitativi visibili all'esterno la giunta comunale su proposta dell'assessore francesco salinitro ha approvato bando e regolamento scaricabili dal sito ufficiale del comune alla sezione delibere e determine le istanze vanno presentate tra l'1 giugno e il 31 luglio prossimi all'istanza saranno andranno allegate tre fotografie i primi tre classificati verranno riconosciuti i premi in denaro un premio speciale anche per il miglior terrazzo balcone o vetrina di via venezia per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al settore sport turismo e cultura preside dopo tantissime fatiche dopo un successo strepitoso in teatro arrivano anche altre soddisfazioni perché al netto delle spese siete riusciti ad accumulare la somma di oltre 2300 euro che servirà a che cosa? allora questi siccome era questo il progetto serviranno per acquistare dei libri da dare incomodato d'uso ai ragazzini che si iscriveranno che sono già iscritte e frequenteranno la prima media l'anno prossimo questo perché? perché da un sondaggio è chiaro che un progetto nasce da un bisogno in questi due tre anni gli ultimi soprattutto mi sono accorta che molti ragazzini pur essendo motivati pur avendo piacere di venire a scuola si sono trovati in difficoltà perché i genitori disoccupati per varie ragioni perché non parlo solo dei dipendenti dell'ENI ma parlo anche di commercianti di famiglie che si sono trovate in gravi difficoltà ora siamo chiari questo sarà questa distribuzione dei libri sarà fatta attraverso la presentazione dell'ISEE in maniera che si possano valutare le famiglie che hanno realmente bisogno quindi attraverso dei criteri oggettivi andrete a valutare laddove ci sono delle necessità e la scuola viene incontro è un gesto sicuramente bellissimo che però risolverà anche dei problemi di mancanza di libri nei primi giorni di scuola cosa che spesso è accaduta eh sì eh sì ma non solo questo noi l'abbiamo fatto e ci siamo veramente messi in gioco perché nessuno di noi è attore o attrice ma l'abbiamo fatto veramente col cuore e io ringrazio i docenti i miei docenti i genitori l'intero consiglio d'istituto che pur non avendo mai nemmeno l'idea di cosa fosse un copione ci siamo cimentati ed è andata bene e cosa si augura per il nuovo anno scolastico preside e l'anno prossimo ci venderemo qualche altra cosa sono stati prorogati i termini di scadenza del bando per l'assegnazione di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo relativo all'anno scolastico 2015-2016 lo ha reso noto l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Gera Alicia Abela il termine per la presentazione delle domande di buono libro viene posticipato fino al prossimo 30 maggio i moduli di domanda vanno ritirati negli uffici dell'istituzione scolastica frequentata dallo studente interessato scaricati sul sito del comune di Gera www.comune.gela.cl.it è previsto per giovedì 2 giugno prossimo al Palacossiga dalle 10 il Twirling Open Day l'obiettivo è quello di diffondere la pratica della disciplina sportiva e artistica ancora poco conosciuta prevista la presenza di campioni nazionali e regionali l'evento porta la firma dell'associazione sportiva Niscemi Twirling e del comitato regionale bene è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e avere anche oggi scelto la nostra informazione arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti